Questa volta sembra davvero che niente possa evitare una forte azione di sciopero dei dipendenti della SEAC, la società che ha la concessione per svolgere il servizio di trasporto pubblico nella città di Campobasso. L'ultimo tentativo, quello operato dal prefetto Francesco Paolo Di Menna, non è riuscito a trovare una soluzione adeguata ed i sindacati hanno iniziato a percorrere la strada della mobilitazione dello sciopero. Ne abbiamo parlato con Giorgio Simonetti, segretario regionale della Filt CGL. L'azienda non vuole nessun tipo di confronto e quindi in qualche modo anche la nostra proposta, che era tutto sommato equilibrata e ragionevole, io ritengo, di sospendere per un mese, per poter avviare il confronto, quindi per poter sospendere un mese, la ristrutturazione aziendale, la riorganizzazione che è oggetto anche eventualmente della proclamazione di un'azione rivendicativa che a questo punto riteniamo e crediamo inevitabile. Quindi noi non accettiamo il metodo, cioè noi diciamo che erano stati dati i tempi necessari all'azienda per avviare il confronto ed eventualmente aggiungere e rivedere i contenuti di quell'accordo. Ma fatto così, rispetto solo a rivederlo per una necessità aziendale, noi non ci stiamo, non possiamo accettare questo atteggiamento autoritario da parte dell'azienda e per questo noi abbiamo chiesto anche il tentativo di conciliazione al prefetto, pensavamo che ci fossero gli elementi per poter evitare eventualmente all'utenza di Campobasso le conseguenze negative, che poi sono inevitabili in qualche modo, di un'azione di sciopero e quindi sospensione del servizio.